Rappresenta lo snodo centrale dell'inchiesta sulla morte di Clelia di Tano, la 25enne fasanese deceduta il primo luglio scorso, precipitando dal quarto piano nel vano ascensore della palazzina in cui abitava. Giovedì mattina l'ascensore del condominio di via Piave 160 sarà sottoposto a perizia tecnica disposta dalla procura. Si tratta di un atto irripetibile al quale parteciperanno anche il consulente della famiglia di Clelia e quelli dei quattro indagati per omicidio colposo, l'amministratore di condominio Sabino Casalino, il titolare della ditta incaricata della manutenzione dell'ascensore Mattia Rana, entrambi interdetti dall'attività professionale per un anno, l'operaio della stessa ditta Paolo D'Arcangelo e la titolare Maria Biceglie. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Fasano il malfunzionamento di quell'ascensore sarebbe stato trascurato e sottovalutato per anni. Quella porta si sarebbe aperta già in passato anche senza la presenza dell'ascensore e veniva richiusa con un laccio dall'interno per consentire ai battenti di allinearsi e di far partire la cabina. Gli inquirenti inoltre non hanno trovato tracce di documenti sulle verifiche biennali che negli ultimi dieci anni non risultano essere state mai effettuate.